wow 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 che figata ciao bella faccia me ne vado ci vediamo ciao a tutti ragazzi sono kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft oggi mi trovo nella bella craft perchè ho intenzione di fare una challenge me l'avete proposta voi nei commenti e vediamo se è fattibile devo vivere 24 ore in compagnia di bella faccia il mio migliore amico quindi aspetta andiamo a bussare che sicuramente starà dormendo ancora il mattino presso quindi sono abbastanza sicuro è un dormiglione bella faccia toc toc bella faccia ma che sto facendo è là fuori bella faccia cosa stai facendo ora lo prendo con una freccia vediamo se si sveglia bella faccia sono io sono qua sono qua sul balcone cosa stai facendo ma sei te ma certo che sono io aspetta scendo arrivo stavo facendo yoga e fai anche meditazione ti metti qua senti lascia stare la yoga e la meditazione ascolta bella faccia oggi voglio fare una sfida una challenge devo passare 24 ore in tua compagnia buona fortuna si no no aspetta ehi con te lo devo fare ma con me eh devo stare 24 ore qua con te e fare tutto quello che fai tu in un giorno non sto scherzando l'accesso al mio mondo è vietato devo restare qui ok quindi devi fare tutto quello che faccio io si però veramente c'è non è che ora ti butti nella lava no 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 ecco lo sapevo allora cosa fai tu al mattino per esempio la colazione presumo bene iniziamo subito vieni iniziamo subito ok dove stiamo andando bella faccia andiamo nel letto perché io la mattina mi sveglio perché dormo in un letto come tutti ho capito vai non ci entro bella faccia nel letto ok quindi buongiorno quindi la prima cosa che fai è svegliarti buongiorno a tutti ecco mi sveglio guardo qua fuori e dico ah è il mio mondo dico sei un narcisista bella faccia e poi che cosa fai poi scendo qua saluto stellina non schiacciano le porte aperte perché dopo stellina prende freddo pulisco stellina perché fa molta cacchina quindi devi pulire no perché io scusa ancora non l'ho pulita ancora ok forza veloce perfetto pulito pulito sicuro poi controllo sempre se ce l'ha posta ecco ad esempio la posta del cuore la posta non c'è perché a volte qualcuno mi manda dei messaggi perché non ti scrive nessuno non mi scrive nessuno dai bella faccia no no uno di questi giorni ti invio io una letterina ok poi la mattina vado a fare un po' di jogging no dai no jogging no sì sì forza veloce ma io non voglio va bene faccio faccio 229 giri intorno alla mia casa scusa quanti 220.000 e poi mi stanco prima perché non ho voglia di farne 229 ah ecco infatti non li fai tutti allora però dopo ci ripenso effettivamente corro un'altra volta dai bella faccia basta correre non c'ho voglia di fare attività fisica però poi dopo ripenso no io non ho voglia perché dovrei andare a prendere qualcosa però dopo ricordo è impazzito è impazzito ragazzi è stata una pessima idea quella di vivere con lui per 24 ore allora senti no senti lo dico io hai capito ok scusa scusa tu sei il padrone del mondo 24 ore vivo con bella faccia e faccio tutte le cose per lui no 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 non è così il titolo non è faccio le cose per lui faccio le cose con lui vado a prendere la legna perché la legna è molto molto fondamentale molto fondamentale stavo dicendo certo la legna ti serve perché tu hai fatto tantissime costruzioni in questo mondo quindi ovviamente ne hai bisogno di tanta no in verità mi piace tagliare gli alberi quindi andiamo a tagliare gli alberi ma poi li ripianti spero si si ripiantiamo ok mi raccomando allora ogni volta passo di qui e saluto il polipo ciao polipo gigante ciao polipo certo che tu hai proprio delle abitudini piuttosto strane bella faccia io non le faccio tutte queste cose nel mio mondo no poi annuso questa pianta qui proprio questa si le faccio no no non la metterò mai vado a tagliare gli alberi ok scusa era faccio 24 ore bella faccia o ignoro bella faccia 24 ore no tu mi hai detto che tagli gli alberi quindi adesso tagliamo gli alberi no ok poi adesso dopo che taglio un albero faccio la siesta la siesta si quindi ma ti sei già stancato ma ci sei svegliato adesso bella faccia non dormire sempre in continuazione senti taglia gli alberi con me piuttosto visto che comunque ci servono per fare le varie costruzioni di tutto il mondo devi ripiantarli gli alberi hai capito e esprimi un desiderio perché ogni volta che pianto un albero esprimo un desiderio vorrei che per la faccia sparisse non quel tipo di desiderio un desiderio su che dolce vuoi mangiare io esprimo sempre questi tipi di desiderio lo so perché tu sei una persona piuttosto strana caramello ecco appunto va bene quindi ripiantiamo gli alberi allora poi dopo aver tagliato gli alberi vado a pranzo col signor salmone mangiamo il signor salmone andiamo a pranzo con il signor salmone non mangiamo il signor salmone e cosa si mangia oggi la specialità di oggi qual è la specialità di oggi mi sa che dovrebbe essere pure di patate con arrosto di lanterna di pollo il signor salmone non è molto bravo a cucinare mi raccomando però non devi prenderlo in giro se no si offende no a volte mi ha fatto una torsa di redstone però ha detto buono ho detto oh ma che bellino qua guarda si passa con le lily pad ah e poi si salta in mare si purtroppo si oh ciao signor salmone il signor salmone è qui nelle mie mani ciao signor salmone ciao signor salmone cosa sei cucinato da mangiare l'ho rapito è mio ora scappo e io ho un tridente aggia tieni te lo riporto lì indietro tanto non mi sta neanche tanto simpatico allora cosa c'è oggi da mangiare cosa non c'è niente ha detto che non ha fatto niente per te io mi mangio una mela d'oro allora puoi mangiare una mela d'oro no ha detto che per te nel magazzino aveva preparato un po' di alghe eh ormai ho mangiato la mela d'oro è molto più buona e succulenta ok vabbè dopo aver mangiato col signor salmone dobbiamo andare nel magazzino perché faccio un'altra cosa molto divertente e inquietante allo stesso tempo oh cosa per la faccia ma tu non combatti mai non c'è nulla di interessante ma cosa sta dicendo Nasone no no lascialo perdere non capisce molto uffa che noia però io voglio combattere va bene ok quindi cosa fa ma cosa ci fa un cane qua scusa eh Wally è il mio cane ma Wally cosa ci fa sei dal primo episodio della mia serie veramente cosa succede se eh mi sa che si arrabbierebbero molto sto scherzando non lo farei mai 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 allora adesso andiamo a volare con l'elitra perché devo controllare i pizzoni mi hanno fatto la cacca sul tetto quindi controllo sempre queste cose dove ce l'hai l'elitra guarda per la faccia eh wow questo posto non finisce mai di sorprendermi ragazzi guarda qua ma anche io voglio volare bella faccia prendi questi razzi ok grazie andiamo di sopra e vogliamo ma io volerò anche senza ali scusami eh ci proviamo che è andata oh si sta già facendo notte significa che stanno passando 24 ore oh tassi che ho trattato molto me ne posso andare oh come ah perché non vedi l'ora di andartene eh no beh diciamo che hai dei modi di fare piuttosto bislucky ma come è la giornata tipica di ogni bambino sì certo come no ok insegnami a volare oh oh guarda oh che figata bella faccia sto volando pure io lo voglio fare pure dove sei lo voglio fare pure io bella faccia passami passami le ali passami le ali chi sei tu ma come chi sono io sono Kendall ti sto prendendo in giro dai vuole non farti male mi raccomando io non l'ho mai fatto bella faccia ok aspetta oh mio dio oh mio dio Kendall oh guarda le mie sono diverse dalle tue sei pronto oh è vero sono pronto sono pronto aspettate non sono finita ancora 24 ore devo farmi devo farmi il giro prima veloce veloce come dio cosa succede se passano 24 ore oh no è entrato un intruso ecco il combattimento che volevo che combattimenti è proibito combattere dentro eh troppo tardi ho ucciso già uno zombo ok allora quindi bella faccia allora quindi ora salto e poi uso i saldi i cosi giusto vai 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 no devi tenere premuto non ha funzionato eh no allora bella faccia quindi mi devo buttare vai farfallino vai wow wow che figata ciao bella faccia me ne vado ci vediamo eh ma qua sono mia che figata ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video 24 ore nel mondo di bella faccia e adesso possiamo esplorare veramente tutto quanto dai mi sa che ora è arrivato il momento di tornare a casa perché poverino se no ci resta male eh mi sono perso bella faccia bella faccia dove sei? oh cavolo ragazzi ora sarà impossibile ritrovarlo bella faccia attento attento oh ma cosa ma muori? è bellissimo grazie ma scusa non pensavo che morissi se atterravi con l'elytra che atterrazzo mi sono spiaccicato per terra ma no dai non è giusto è troppo ridere hey ridammi le mie cose che cosa scusa eh come che cosa c'è l'armatura in diamante no 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 bella mira eh senti adesso è arrivato il momento di andare a letto perché si è fatta notte come vedi tieni prendi il letto e cosina ecco grazie sono passate 24 ore è arrivato il momento di andare a nanna quando arriva la notte io vado sempre a salutare i miei pappagalli preferiti quindi vieni corri con me ma andiamo a dormire è tardi devo darla buonanotte flip flop altrimenti non dormono ok e dove sono? sono là vicino alla tua casa no 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 buonanotte a tutti no te li devo far conoscere va bene fammi conoscere flip flop ma dove li tieni scusa me la faccio qua vieni ho fatto una casa per i pappagalli anche ecco qui dentro ah le case per tutti però la casa per me non l'avevo ancora fatto come no ecco flip ho dovuto fare io flip e flap flip e flap allora c'era una volta sei un ghepardo ciao non mi interrompe la storia è questa se ti piace ok altrimenti niente parli con me o con lui? no parlo con flap perché? ma non ti capisce? ma come no io sono un pollo parlo con gli animali ah è giusto è giusto aspetta senti ti sta dicendo qualcosa cosa dice? lasciare un mi piace? cosa? mi piace? mi piace? quanti mi piace? quanti? 6.000 oh cavolo sei molto wow ah una bella doccia così andiamo a letto per venire ah è vero mi sono scordato perché tu non ti lavi mai no faccio la doccia nel bagno di alghe ragazzi mi raccomando lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video in compagnia di bella faccia purtroppo vivere con lui per 24 ore non è molto facile e io adesso vado a dormire buonanotte buonanotte ci sono i mostri vicini non possiamo dormire eh ma quanti siete? ma cosa c'è? una festa qua bella faccia aiuto ma guarda quanti sono ma scusa non è normale che ci siano tutti questi mostri quanti sono? tutti a casa mia? buonanotte buonanotte